Una domenica di passione, quella di ieri nell'aeroporto internazionale di Catania, dove SAC, la società di gestione dello scalo, ha dovuto fronteggiare un'oggettiva situazione di emergenza per assistere le centinaia di passeggeri in possesso di un biglietto di viaggio Winjet dopo l'autosospensione decisa dalla compagnia aerea catanese nella tarda serata di sabato. Lo ha riferito oggi alla stampa il presidente della SAC, Gaetano Mancini. La maggiore criticità si è infatti registrata alla bietteria che è stata sottoposta ad un carico di almeno una decina di volte superiore a quello per il quale è stata dimensionata. Ciò ha ovviamente creato una saturazione delle potenzialità strutturali dell'aerostazione e della viabilità di accesso all'aeroporto per la presenza di un flusso di passeggeri ben superiore ai limiti dimensionali del periodo. SAC ha dunque messo a punto un piano di emergenza con personale proprio per garantire risposte, accoglienza e soprattutto per consentire a tutti i viaggiatori in partenza di essere riprotetti su altri voli. Il nostro consiglio è sicuramente quello di procedere per quanto possibile a cambiare i biglietti utilizzando internet, utilizzando i call center, le agenzie, i tour operator quanti praticamente possono evitare di intassare ulteriormente la biglietteria. Oggi la biglietteria sta funzionando per un livello che almeno è 10 volte superiore a quello per il quale è stata dimensionata. Mancini affronta poi il delicatissimo problema del rischio di monopolio sul mercato aereo siciliano e del futuro occupazionale dei circa 500 lavoratori windjet e delle altre diverse centinaia dell'indotto, tra i quali quelli dei servizi di handling. L'auspicio, dice Mancini, è che si arrivi a una positiva conclusione della trattativa, ma se la ripresa della trattativa dovesse fallire ci saranno circa 800 lavoratori senza impiego. Un vero dramma sociale che si manifesterebbe nel momento peggiore della crisi economica. Per questo SAC in questi mesi ha messo in atto concrete strategie commerciali che consentiranno in tempi brevi alternative di traffico capaci di offrire siciliani le opportunità finora garantite da Windjet. SAC infatti intende assicurare la concorrenza utile a garantire una politica di prezzi accessibile per chi vuole arrivare in Sicilia o per chi ha bisogno di spostarsi dalla Sicilia. E per offrire concrete opportunità ai lavoratori colpiti da questa crisi, al prossimo Consiglio di Amministrazione della SAC, che si riunirà il 20 agosto, verrà proposto di applicare agevolazioni a quelle compagnie aeree che, venendo a Catania, assumeranno il personale ex Windjet e utilizzeranno i lavoratori del suo indotto. Io proporrò al Consiglio di Amministrazione, ho già avuto un assenso da parte di diversi consiglieri, che le compagnie, visto che Catania ha un mercato potenziale molto alto, le compagnie che, laddove malauguratamente, perché il nostro augurio è che si concluda positivamente la vicenda Windjet riaperta poi domani dal Ministro Passera, laddove ciò non dovesse avvenire, le compagnie che verranno a Catania, noi proporremo a quelle compagnie di avere delle agevolazioni a fronte delle assunzioni del personale Windjet e dell'indotto che oggi serve alla compagnia Windjet. Mancini, infine, chiarisce la vicenda del sequestro dell'aeromobile Windjet, messo in atto sabato sera su disposizione dell'autorità giudiziaria, un intervento che si è reso necessario per recuperare il legittimo credito che la Windjet doveva alla SAC.